Benvenuti e benvenuti a questo nuovo video tutorial di Orizzonte Scuola sulla compilazione della domanda di partecipazione al concorso docenti per la scuola secondaria. Le iscrizioni rimarranno aperte dal lunedì 11 dicembre fino a martedì 9 gennaio 2024. Ci si può iscrivere attraverso il portale impa.gov.it dove vengono pubblicati tutti i bandi di concorso. Dato che però sono tanti, conviene cercare il bando digitando una parola chiave come ad esempio scuola e poi cercare la voce specifica che in questo caso è concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado. Cliccando accediamo a una nuova pagina e in fondo troviamo il link per inviare la candidatura. Si può accedere con uno dei seguenti servizi, il più utilizzato è lo speed. In alternativa si può direttamente cercare la piattaforma concorsi e procedure selettive attraverso un qualsiasi motore di ricerca e si può accedere alla piattaforma cliccando qua su vai al servizio. Nuovamente sarà richiesto di accedere attraverso uno di questi quattro servizi. Un'altra ulteriore alternativa è quella di accedere alla piattaforma policy stanzi online del ministero. Cliccare qua su accedi. Dopo essersi identificati bisogna poi cliccare qua in alto a destra su area riservata, nella colonna di sinistra su servizi, tutti i servizi e poi si cercherà in ordine alfabetico la piattaforma concorsi e procedure selettive. Una volta effettuato l'accesso alla piattaforma è possibile visualizzare tutti i concorsi a cui ci si può iscrivere. Prendiamo adesso il concorso per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e clicchiamo su vai alla domanda. La prima volta che effettuerete l'accesso visualizzerete l'informativa del concorso e in fondo dovrete cliccare su presa visione. Cliccando in alto a destra su avanti visualizzerete questa pagina per la scelta della regione. Ricordo infatti che è possibile iscriversi in una classe di concorso per grado, quindi una per il primo grado e una per il secondo grado, più eventualmente sostegno per chi possiede la specializzazione, ma tutte le domande devono essere presentate all'interno di un'unica regione. Quindi selezionate la regione desiderata e cliccate in alto a destra su avanti. Dopo aver controllato i vostri dati personali cliccate ancora su avanti e accederete alla domanda. Per prima cosa inserite la classe o le classi di concorso per le quali volete iscrivervi. Per farlo basta cliccare sul più in corrispondenza di questa voce. Selezionate la classe di concorso per la quale volete iscrivervi, cliccate su aggiungi, selezionate il titolo di accesso con il quale vi state iscrivendo al concorso, che può essere il titolo di accesso alla classe di concorso più l'abilitazione specifica, in questo caso selezionate la seconda opzione, oppure il titolo di accesso alla classe di concorso E24 CFU, in questo caso selezionate la terza opzione, oppure il titolo di accesso alla classe di concorso più i tre anni di servizio svolti nelle scuole statali negli ultimi cinque anni di cui almeno un'annualità specifica. In questo caso bisognerà selezionare la prima opzione che prevede titolo di studio. Attenzione perché compare anche un riquadro che specifica che le tre annualità dovranno essere obbligatoriamente inserite nella sezione titoli di servizio con la tipologia titolo valido ai fini dell'accesso. Successivamente è obbligatorio spuntare questa voce in cui sostanzialmente si dichiara di avere il titolo di accesso completo alla classe di concorso indicata, secondo quanto previsto dalle tabelle del DPR numero 19 del 2016 e successive modificazioni che sono contenute nel DM numero 259 del 2017. Vi consiglio di controllare queste tabelle per essere sicuri di avere il titolo di accesso completo all'insegnamento ed evitare di dichiarare il falso. Ricordo infatti che non sempre basta una laurea di secondo livello, in certi casi sono richiesti anche alcuni crediti specifici. Ad esempio per la 26 sono richiesti alcuni CFO specifici dei settori MAT. Indicate il tipo di titolo di studio, cioè laurea vecchio ordinamento oppure specialistica oppure magistrale. In questo caso metteremo laurea magistrale e bisognerà poi specificare la classe di laurea, in questo caso LM40 magistrale e matematica. Inserite poi il voto. Inserendo anche la base vedremo che verrà convertito automaticamente in centesimi. Non c'è una voce specifica per la lode perché come si può vedere dalle tabelle di valutazione dei titoli allegati al regolamento non è prevista una valutazione aggiuntiva per la lode. Attenzione a questa voce, devono spuntarla solamente coloro che si trovano nel raro caso di avere un giudizio del titolo di laurea non quantificabile in termini numerici. In questo caso viene assegnato d'ufficio il punteggio di 3,75 punti. Successivamente indicate la data di conseguimento della laurea, il luogo di conseguimento, quindi il specifico Ateneo in questo caso e poi eventuali titoli congiunti. Questo riquadro riguarda solamente alcune classi di concorso, ad esempio chi ha un diploma accademico o vecchio ordinamento di conservatorio ha accesso alle classi di concorso musicali solo se il titolo è congiunto ad un diploma di scuola secondaria di secondo grado e quindi quest'ultimo va indicato in questo riquadro. Una volta terminata questa compilazione clicchiamo in alto a destro su salva. Compare un riquadro verde che ci assicura di aver inserito con successo la classe di concorso e il titolo d'accesso. Compare però anche un riquadro giallo che ci ricorda che il solo titolo d'accesso alla classe di concorso non è valido per l'iscrizione al concorso e dato che nella sezione precedente non abbiamo selezionato né la voce che comprendeva anche l'abilitazione né quella che comprendeva anche i 24 CFU allora dobbiamo inserire necessariamente i tre anni di servizio e infatti la sezione titoli di servizio diventa adesso un campo obbligatorio. Prima di inserire i titoli di servizio concludiamo la compilazione delle classi di concorso per le quali si chiede l'iscrizione. Stavolta chiaramente si potrà inserire solamente una classe di concorso del primo grado ad esempio prendiamo matematica e scienze a 28 e clicchiamo su aggiungi. Bisogna compilare un riquadro simile a quello precedente con la differenza che se il titolo d'accesso stavolta è il titolo di studio 24 CFU bisognerà selezionare la terza opzione fra quelle presenti nel menu tendina nella voce tipologia di titolo d'accesso. Le altre voci sono analoghe eccetto le ultime che riguardano proprio i 24 CFU. bisogna necessariamente spuntare questa voce in cui si dichiara di averli conseguiti entro il 31 ottobre 2022 e di averli conseguiti secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale numero 616 del 2017 e cioè coprendo almeno tre dei quattro ambiti disciplinari. Bisogna poi inserire la data di conseguimento o riconoscimento dei CFU e l'ateneo in cui è stata rilasciata la certificazione finale. Concluso il tutto clicchiamo su salva. Se si possiede la specializzazione su sostegno è possibile presentare domanda anche per i posti di sostegno. Si clicca su aggiungi in corrispondenza dei posti su sostegno. Si seleziona il tipo di posto sostegno al primo oppure al secondo grado. Si clicca su aggiungi. Bisogna selezionare la procedura con la quale si è conseguita la specializzazione che nel caso più comune sarà il decreto ministeriale numero 249 del 2010 articolo 13 il cosiddetto TFA sostegno. Si indica poi la votazione con la quale è stata conseguita il titolo e la base. Si inserisce la data di conseguimento della specializzazione, il luogo di conseguimento, infine si clicca su salva. Concludiamo ora l'iscrizione al concorso per la classe di concorso A26 inserendo le tre annualità di servizio nella sezione titoli di servizio. Come prima clicchiamo sul più per accedere alla sezione. Selezioniamo un titolo valido ai fini dell'accesso. Clicchiamo su aggiungi. Come anno scolastico mettiamo l'anno scolastico 2018-19. Un anno scolastico precedente non rientrerebbe nei cinque anni precedenti. Selezioniamo la classe di concorso, nel nostro caso supponiamo sia A26 e che il servizio non sia stato prestato nelle scuole italiane all'estero e non sia stato un servizio di ruolo. Supponiamo che non si sia riusciti a maturare 180 giorni di servizio ma si abbia prestato servizio ininterrottamente del primo febbraio agli scruttini. Questo garantisce di aver maturato comunque l'annualità. Nella denominazione indichiamo il nome della scuola e infine la provincia e il comune della scuola. Osserviamo che cliccando su salva compare un messaggio d'errore in quanto sono necessari tre anni di servizio per l'accesso al concorso. Quindi inseriamo gli altri due anni di servizio come titoli validi ai fini dell'accesso ripetendo la stessa identica procedura. A titolo di esempio ho inserito un'altra annualità nell'anno scolastico 2021 sulla classe di concorso A27 quindi servizio a specifico ma ricordo che è sufficiente una sola annualità di servizio specifico. Sempre servizio non di ruolo non svolto nelle scuole italiane all'estero. Stavolta ho messo la data di inizio e di fine servizio. Infine sempre la denominazione provincia e comune della scuola. Infine un'altra annualità nel 2022-23 sempre sulla classe di concorso 27 quindi sempre servizio a specifico. Stavolta ho messo servizio di ruolo e quindi come data di inizio e fine servizio primo settembre 31 agosto e poi nuovamente la denominazione provincia e comune. Una volta concluso clicchiamo su salva. Se si possiedono ulteriori annualità di servizio specifico è possibile inserirle come ulteriori titoli di servizio valutabili sempre all'interno della stessa sezione che quindi si può andare a modificare cliccando sull'icona con la matita. Per aggiungere questa annualità come tipologie di servizio bisogna selezionare altro titolo di servizio poi aggiungi si compila l'anno scolastico di riferimento il tipo di servizio che stavolta può essere non solo un servizio svolto nelle scuole statali ma anche nelle scuole paritarie oppure nei centri di formazione professionale oppure in particolari progetti regionali per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e il contrasto alla dispersione scolastica come il pugliese diritti a scuola oppure il sardo tutti a scuola. In questo caso bisogna selezionare questa voce che presenta i riferimenti normativi. Si seleziona poi la classe di concorso, il tipo di servizio se di ruolo o non di ruolo, il periodo come prima, la denominazione della scuola in cui è stato svolto il servizio, la provincia e il comune. Infine clicchiamo su salva. Passiamo ora alla compilazione dei titoli culturali valutabili cliccando su accedi. In questa sezione sono elencati tutti i possibili titoli culturali valutabili, gli stessi elencati nelle tabelle di valutazione dei titoli allegate al regolamento concorsuale. Ci sono alcune voci che richiedono attenzione perché sono tante le persone che in passato hanno commesso degli errori. Ad esempio nella voce B.1.1 si parla di ulteriori abilitazioni per la specifica classe di concorso, quindi se ad esempio una persona si scrive al concorso per la classe di concorso A12 con il titolo di studio e l'abilitazione per la A12 potrà compilare questa sezione solamente se possiede un'ulteriore abilitazione per la A12. Attenzione al punto B.1.2, non riguarda infatti gli ITIS bensì gli ITS che sono dei percorsi post diploma. Un altro punto che merita attenzione è il B.4.1 che può essere compilato da tutti coloro che hanno superato le prove di un precedente concorso ordinario ma per lo specifico posto. Quindi se avessimo superato il concorso ordinario su A27 non potremmo inserirlo in questa sezione dato che stiamo presentando domanda per le case di concorso A28 e A26. Un ulteriore punto che merita attenzione è il B.4.6 che riguarda ulteriori lauree di secondo livello rispetto a quella che ha dato il titolo di accesso alla procedura concorsuale. Spesso si commette l'errore di inserire in questa sezione la laurea che ha dato accesso alla specializzazione sul sostegno mentre invece si intendono ulteriori lauree. A titolo di esempio compiliamo questa sezione inserendo una seconda laurea o in generale un altro titolo di secondo livello. Per esempio in questo caso è un ulteriore titolo di secondo livello un diploma di conservatorio vecchio ordinamento. Si deve specificare il diploma del specifico strumento, l'anno di conseguimento, la data di conseguimento, restituzione e infine si clicca su salva. La sezione compilata comparirà in verde e sarà possibile modificarla oppure eliminarla. Analogamente a quanto detto per il punto B.4.6, anche per il punto B.4.7 bisogna prestare attenzione perché si intendono lauree di primo livello ulteriori rispetto alla laurea di primo livello che ha dato accesso alla laurea di secondo livello indicata fra i requisiti d'accesso. Chi ha presentato domanda per i posti comuni e per i posti di sostegno può sicuramente compilare questa sezione in cui può dichiarare il titolo di specializzazione come ulteriore titolo valutabile per i posti comuni. Un altro titolo che interessa tante persone è sicuramente quello del CLIL. Bisogna però prestare attenzione perché ci sono più sezioni che riguardano il CLIL. La sezione B.4.10 riguarda il CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del decreto ministeriale numero 249 del 2010 e sono in pochi a possedere questo tipo di titolo. La maggior parte delle persone possiede invece una certificazione alla frequenza di corsi per di perfezionamento sulla metodologia RECLIL della durata di 60 CFU, conseguiti congiunti alla certificazione di lingua straniera livello C1. Quindi in questo caso bisogna compilare la sezione B.4.11.2. In questo caso andrà compilata anche la sezione B.4.12 in cui va inserita la certificazione linguistica di livello C1 oppure C2. Il B2 o livelli inferiori non sono valutati. Osserviamo che non sono valutabili altri tipi di certificazioni, per esempio non sono valutabili le certificazioni informatiche che sono invece presenti nelle tabelle di valutazione delle GPS. Un altro titolo molto comune e il master universitario di primo o secondo livello da 60 CFU che si trova nella voce B.4.13.2. Una volta conclusa la compilazione dei titoli valutabili torniamo alla pagina principale e continuiamo la compilazione con i titoli di preferenza. Tali titoli servono per determinare l'ordine ingradatoria dei candidati a parità di punteggio. Sono leggermente modificati rispetto al passato ma sono presenti la maggior parte dei titoli più comuni come per esempio l'aver prestato servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso e già nel decreto ministeriale numero 50 del 2021 era stato specificato che non era necessario avere una particolare attestazione per aver prestato l'odevole servizio ma bastava una qualsiasi certificazione per aver prestato servizio a qualunque titolo nell'amministrazione. Un altro punto molto comune è quello dei figli a carico e in questo caso bisogna anche selezionare il numero dei figli. Una volta selezionati gli eventuali titoli di preferenza si clicca su salva. Tra le altre sezioni compilabili abbiamo quella dei titoli di riserva che chiaramente è facoltativa perché riguarda solamente coloro che usufruiscono della legge numero 68 del 1999. Chi si trova in questa situazione per poter usufruire della riserva prevista dalla legge dovrà compilare la voce corrispondente alla propria situazione e poi cliccare su salva. Chi invece non usufruisce di questa legge dovrà lasciare questa sezione vuota. Infine l'ultima sezione da compilare è quella sulle altre dichiarazioni. Si tratta di dichiarazioni sulla cittadinanza e diritti civili ma c'è anche una sezione sul versamento della tassa concorsuale che ricordo è di 10 euro per ogni procedura per la quale ci si iscrive. Quindi torniamo indietro nella domanda principale e clicchiamo su questo bottone in blu per avere automaticamente l'emissione del bollettino per il pagamento dei diritti di segreteria. Questo bottone compare automaticamente dopo aver compilato la sezione sulle classi di concorso per l'iscrizione. Quindi non sbaffettatevi se inizialmente non trovate questo bottone. Compare solamente dopo la compilazione di quella sezione. Cliccando verrete rindirizzati automaticamente in questa pagina di Pago in Rete in cui in alto a destra troverete l'importo totale, in questo caso 30 euro perché le procedure concorsuali per cui si chiede l'iscrizione sono 3. Cliccate su conferma pagamento e seguite le istruzioni. Salvate in pdf il bollettino e ritornate nella domanda. Riaccedete alla sezione sulle altre dichiarazioni e compilate tutti i campi, quindi quello relativo alla cittadinanza, quello sui diritti civili e politici, quello sul servizio di leva solamente per coloro che hanno l'obbligo del servizio di leva, quello sulla idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni docenti, il campo sul condanne e sui procedimenti penali, dichiarate di non essere stati distituiti o licenziati in una pubblica amministrazione. C'è questo campo facoltativo per coloro che usufruiscono della legge 104 o della legge 170 possono chiedere tempi aggiuntivi e altri eventuali ausili. C'è poi la sezione sul versamento che è invece obbligatoria dove bisogna allegare la ricevuta del versamento e infine il campo sul trattamento dei dati personali. Dopo aver concluso la compilazione cliccate su salva, ritornate nella domanda di partenza, potete ricontrollare le sezioni compilate e infine cliccare su inoltre. Per ulteriori informazioni e per chiarire i dubbi vi rimando al sito www.orizzontescuola.it e alle puntate dei question time in onda sui canali facebook, youtube, instagram e in formato podcast.